Grazie Presidente. Il lavoro è che io a nome del mio gruppo riproposto, alcuni penso potranno essere ritirati perché in effetti si sovrappongono a testi già adottati alla Commissione principale. Sull'emendamento all'articolo 6, il 14, anche noi insisteremo perché riteniamo che rendere facoltativa per il coniuge o il convivente coniuvante ciò che invece è obbligatorio per il lavoratore principale è una riduzione di tutela ed espone a condizionamenti che vanificano gli stessi obiettivi della Commissione. Per il resto penso che troveremo un'intesa anche con l'orevole Lulling perché noi puntavamo a che in ogni passaggio del testo della Commissione il riferimento ai conviventi coniuvanti insieme a quello del coniuge si riproponesse anziché affidarlo solo alla parte delle interpretazioni. Però è un problema francamente secondario rispetto alle volontà di fondo di tutti. Grazie.